Noi siamo in laboratorio e lavoriamo, lavoriamo con le mani, con la testa, però è la gente intorno che ci dà la forza, il sostegno. Questo è un sostegno emotivo oltre che economico, quindi è importantissimo per noi sapere, soprattutto quando siamo da soli in laboratorio, di notte, sapere che la gente è con noi è importante, è un momento di grandi speranze, è importante che queste speranze possano diventare concrete e per fare ciò veramente serve l'aiuto di tutti.